In collaborazione con Paganella Schi, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Val di Fassa Cari amici e telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Sportador.tv la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla neve, alla montagna e agli sport invernali siamo nel bellissimo territorio di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, una delle perle turistiche del Trentino e della nostra Italia nella prima parte abbiamo visto le bellezze di Trento, i vari percorsi naturalistici della Valle dei Laghi, le bellezze storiche del capoluogo Trentino e siamo saliti su alle Viote, abbiamo presentato la Viote Schi Marathon, questa famosa gara di sci di fondo che si tiene il 27-28 di febbraio e continuiamo a scoprire le bellezze del Bondone, alle mie spalle il palon, le altre il cornetto, la cima verde le cime importanti di questa viote, questa piana, tutta paradiso della natura, paradiso delle attività outdoor qui ci sono ben 35 km di piste di sci di fondo e qui incontriamo la guida alpina De Fan che ci presenta le attività outdoor di questo territorio, un inverno difficile, poco sci alpino ma voi fortunati con questo bellissimo territorio che è veramente un paradiso naturale per l'attività all'aria aperta vi siete organizzati per offrire delle proposte alternative a chi ama la montagna, la neve e gli sport invernali esatto, noi offriamo delle proposte outdoor che vanno dalle semplici passeggiate nel bosco naturalistiche fino poi a delle ciaspolate con l'uso delle racchette da neve dove ci si può inoltrare anche all'interno della neve fresca senza come in questo caso sprofondare troppo e non riuscire così a progredire all'ossi alpinismo, altra attività che quest'anno ha preso piede essendo che non c'erano altre possibilità salendo con gli sci con le pelli di foca, raggiungendo le cime che abbiamo qua attorno e poi scendendo lungo le linee che ovviamente vanno stabilite in base a dei livelli di sicurezza e per questo è importante nel territorio e nell'ambiente invernale cercare sempre di progredire in sicurezza perché il territorio rispetto alle parti estiva, all'estate è molto diverso e molto più difficile anche valutare quelli che sono i rischi connessi all'ambiente invernale quest'anno ci sono metri e metri di neve che vediamo veramente la gente si sta divertendo sta impazzendo di felicità una situazione climatica che non si vedeva da tanti anni però è importante passare il messaggio che bisogna andare in montagna in sicurezza e sempre con o accompagnatori di mezza montagna o con le guidiampine ancora meglio ma sempre appunto per rispetto della natura e della propria salute esatto, l'importante è anche per chi inizia queste nuove attività outdoor cercare sempre di magari iniziare accompagnati da una guida alpina in modo così da capire quali sono le problematiche legate al territorio invernale che come dicevo sono un po' più complesse e più difficili da valutare perché ogni giorno abbiamo situazioni diverse, abbiamo pericoli diversi adesso appena nevicato per cui il pericolo è della tanta neve magari fra quattro giorni c'è un altro pericolo che può essere diverso può esserci dei tratti ghiacciati dove senza l'uso appropriato di ramponi o di strumenti adeguati si possono correre dei rischi per cui l'importante è sempre quello di andare in sicurezza imparando a girare all'interno di questo territorio che ci offre sicuramente moltissime possibilità per principianti, per più progrediti e per diversi livelli che ognuno vuole proprio proporre Ciaspolate, sci alpinismo come ci ha detto Cristian qui alle Viote ma l'attività principe di questo territorio grazie ai suoi 35 chilometri di piste è lo sci di fondo siamo con Nicola Fruner che è un maestro di sci nella scuola di sci di fondo qui delle Viote abbiamo detto attività principe perché qui veramente è il paradiso dello sci di fondo degli sci stretti questa attività che va bene a tutti non ci sono controligazioni per la salute il 90% dei muscoli sono interessati nello sci di fondo possiamo dire che è l'attività migliore per stare bene e per vivere bene Sì, come è detto qua siamo alle Viote come possiamo vedere intorno a noi insomma è un alto piano quindi è un posto diciamo ideale per fare lo sci di fondo abbiamo circa 30 chilometri di piste adatte a tutti come hai detto bene perché? Perché lo sci di fondo è adatto a tutti noi partiamo dai bambini che hanno 5 anni fino ad arrivare abbiamo qua sciatori che ne hanno 93 anche quindi è veramente adatto a tutti è uno sport che coniuga diciamo il movimento all'aria aperta che diciamo in questi tempi diventa importante e anche diciamo una certa attività fisica usiamo sia le gambe che le braccia quindi usiamo l'intero corpo per spostarsi sulla neve parlando un po' in generale dello sci di fondo abbiamo le due tecniche per chi volesse iniziare si inizia con la tecnica classica perché è la diciamo la più semplice è molto simile alla camminata abbiamo i binari che sono delle righe sulla neve diciamo che ci guidano le sci che quindi ci aiutano a muoverci e quindi è adatta per chi inizia abbiamo anche l'altra tecnica che è la diciamo la tecnica libera ho chiamato anche skating che quello è un attimo un po' più di pelo più difficile da partire con quello ma insomma si può fare tranquillamente anche questa tecnica la massima espressione sportiva agonistica qui alle Viotte di questi 30 km di spiste perfettamente diciamo organizzate strutturate è la Viotte Schi Marathon 27-28 di febbraio una gara che è settima edizione ma che è una gara importante per gli agonisti e non solo a cui voi di Trento e del vostro territorio ci tenete molto Viotte Schi Marathon 27-28 di febbraio sì allora è una gran fondo che abbiamo diciamo organizziamo da sette anni con l'appoggio di APT stiamo cercando di farla crescere ecco a un nostro modo di vedere le Viotte si prestano in maniera eccelsa a fare una gran fondo anche di tutto rispetto negli ultimi anni abbiamo avuto un buon riscontro anche di numeri quest'anno vediamo un po' come andrà anche per il discorso Covid ma noi siamo propensi per organizzarla e speriamo che se ci riuscissimo di avere un alto numero di partecipanti tanto ci rifondo qui alle Viotte ma grazie alle abbondanti nevicate di questo inverno quest'anno sta vivendo una grande stagione la ciaspolata o meglio la camminata sulle racchette da neve le potete chiamare ciaspole caspole dipende appunto dal vostro territorio qua si chiamano ciaspole sono quelle che ci fa vedere l'amico Gianfranco Menotti guida alpina tanta attività outdoor Gianfranco qui alle Viotte ma quest'anno la ciaspolata sta vivendo un grande momento le racchette da neve che tu stai indossando certo le racchette da neve penso le conosciate tutti sono tipo queste qua hanno sotto dei chiodi e servono per non sprofondare nella neve fresca grazie all'utilizzo di questi attrezzi è possibile dirigersi verso degli ambienti nevati che siano comunque abbastanza protetti nel senso non esposti alle valanghe ecco perché soprattutto le ciaspole servono per non sprofondare nella neve perché quest'anno lo ricordiamo ci sono metri e metri di neve neve fresca e soprattutto fuori pista non è battuta quindi si sprofonda questa ti permette di navigare di galleggiare sulla neve quindi è una sensazione unica incredibile farlo però soprattutto se si scala si sale verso le montagne che vediamo che a nostre spalle del Bondone, del Palon, del Cornetto, Cima d'Ambrosio e soprattutto Cima Verdi bisogna farlo con una guida alpina e voi potete fare questo servizio guida alpina, ciaspole in totale sicurezza certamente hai detto giusto perché in questo nonostante il territorio sia non molto ampio però presenta dei punti che sono estremamente pericolosi e dei punti invece dove si può effettivamente passare in completa tranquillità con la PT di Trento e con le guide alpine questi tracciati ormai sono collaudati e sappiamo benissimo dove passare quando è il momento giusto e quando è meglio evitare di passare in certi posti una grande attività sportiva la ciaspola ma soprattutto la guida alpina è importante perché con tanta neve è pericoloso andare fuori pista quindi è importante avere il vostro consiglio la vostra sicurezza e seguire le vostre istruzioni anche nel nostro piccolo territorio si presentano dei punti più pericolosi o meno pericolosi ovviamente le guide questi punti riescono a riconoscerli per cui riescono a portare i turisti nei posti più sicuri Immagini mozzafiato quelle del Monte Bondone siamo tornati qui a Trento e rincontriamo Elda Veronese la direttrice dell'azienda per il turismo di Trento Monte Boldone e Valle di Laghi Elda inizio puntata ci ha presentato questo territorio l'abbiamo scoperto, l'abbiamo gustato non manca niente per far sì che Trento e il Bondone e la Valle dei Laghi sia uno dei territori più importanti del Trentino e dell'Italia turistica Un territorio bellissimo a Trento il Monte Bondone e Valle dei Laghi un territorio da vivere tutto l'anno e con questo approccio che abbiamo dato un turismo lento, un turismo sostenibile un modo diverso purtroppo per quello che la pandemia ci ha tolto tante possibilità però abbiamo riscoperto questo modo di vivere il territorio in modo di qualità esperienziale ed emozionale Grazie Elda bellissima questa puntata tutta dedicata a questo meraviglioso territorio che è Trento, il capoluogo della provincia autonoma di Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi grazie all'azienda per il turismo a Genes Valentina Elda Gianluca per le riprese e le montagne di questo speciale televisivo maggiore informazioni discovertrento.it per le informazioni di questo territorio se volete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni di televisione invece consultate il sito sportador.tv ciao e arrivederci alla prossima occasione da Floriano Maboni mi raccomando I'm Bodhi Miller a World Cup ski racer this area of Trentino is very special from the family relationships the food the nature the mountains they all come together in a very special combination here in Trentino I really enjoy the experience of the mountains Adamello Ski Ride sabato 10 aprile 2021 Ski area Campiglio Dolomiti di Brenta 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta Salice fatti di sport Road to Fiemme 2026 in collaborazione con Ponte di Legno Tonale Val di Fiemme Trento Monte Bondone e Valle dei Laghi